Li riconoscete? Probabilmente no. Sono tanti, hanno un curriculum più importante del loro volto e questo in una società bigotta, fondata sull'apparenza, non sembra essere un punto a loro favore. Sono i ricercatori che si sono aggiudicati i fondi del Centro di Ricerca Europeo. Più della metà spenderà questi soldi all'estero. Così, mentre il paese che fu di santi artisti e navigatori taglia le pensioni ed istituzionalizza il precariato eterno, decine di giovani scelgono di intonare un poco romantico Bella Ciao, un arrivederci che è il sapore di un addio per un'Italia non più in grado di riconoscere i propri figli migliori. Difficile rimanere impassibili di fronte a notizie del genere. Tra i più grandi talenti che sono stati insegniti di questa borsa di studio dal Centro di Ricerca Europeo oltre 30 sono italiani e fa specie sapere che molti di questi ragazzi purtroppo non torneranno mai a casa.